BasicNet è un'impresa nuova costruita su vecchi asset, i marchi. Così Marco Boglione, presidente del gruppo Basic, ha il convegno innovazione in tangibili territorio, organizzato il 30 maggio a Roma all'Accademia dell'Incei per i 50 anni della Fondazione Adriano Olivetti. I marchi, ha spiegato, sono intangibili, al contrario dei prodotti che ne derivano, magliette, scarpe e accessori che hanno una filiera concreta, dalla coltivazione della materia prima alla produzione, dalla logistica alla distribuzione. BasicNet, ha detto il presidente del gruppo, lavora solo sugli intangibili, ricerca e sviluppo, industrializzazione, information technology, marketing globale, finanza strategica. Non produciamo, non vendiamo, non fatturiamo magliette. È stata questa la nostra grande innovazione, creare un nuovo modello di business che ci ha permesso di partire senza soldi, letteralmente da un garage. Oggi BasicNet aggrega ogni anno nel mondo vendite per oltre un miliardo di euro e coordina grazie al web un network di quasi 800 imprenditori in 120 mercati. Grazie a tutti.